Ancora non posso essere esplicito sulla nuova ordinanza, è chiaro che l'aumento dei contagi impone ulteriori misure, misure restrittive che potremmo evitare e che avremmo potuto evitare se ci fosse stata una maggiore responsabilità collettiva. Purtroppo gli appelli alla cautela, alla prudenza che abbiamo lanciato negli ultimi mesi non hanno sortito particolare effetto e tuttavia si tratta di misure che servono a richiamare al senso di responsabilità la comunità siciliana, non misure che possano penalizzare le attività economica, quella è l'ultima cosa a cui vorremmo pensare, ma come sapete in questo caso è il virus che decide, non la politica, è l'unico caso in cui la politica guarda ai numeri perché se il virus torna, speriamo non virulento, allora occorre che chi ha il compito di tutelare la salute dei cittadini e in questo caso lo Stato ha affidato ai Presidenti di Regione il compito di farlo, deve adottare le necessarie misure. È chiaro che in estate abbiamo suggerito l'opportunità di tenere le mascherine fuori e per un certo periodo ha anche l'obbligo, poi un DPCM ha tolto l'obbligo delle mascherine e noi ci siamo adeguati, ma abbiamo assistito a degli assembramenti davvero inconcepibili, ancora oggi questa condizione si presenta e allora dobbiamo intervenire, giovani e meno giovani. Ricordiamoci che in Italia abbiamo registrato 36.000 morti, sono più della metà di tutti i morti civili della seconda guerra mondiale fino all'armistizio, quindi è chiaro che pur non vedendo i cadavere ai bordi della strada dobbiamo tenere conto che questo è un virus che uccide in maniera lenta ma inesorabile. Grazie